Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie! Ma perché sono scivolato? Andiamo a mangiare. Chi sputa in faccia torna. C'ha ragione, bravo. No, che schifo! Ma che cosa è successo? E tu l'hai detto? Io vado a mangiare dell'articolo. E tu! Comunque volevo dire una cosa. Ma già amarono Gesù Cristo, e questo non è proprio... Ma è una figura, niente preoccupato. Io dice che giustificava nessuno. Ma maestro non è mai stango, vai giù. Vuoi dire perchè voi non sapete una cazza della vita. Non sapete niente e nulla saper niente. Non sono saper una cazza. E uno è un po' preoccupato, un maestro è tornato. E' il più forte primo. Ma tu ci spaccammo tutte le cose. Parchetti nei parchetti, ha gestasciato le impanere. E' scemi da naso, non so perchè Nooo amore non lo sei messo nel naso, ma porco cazzo Non so appiccicare Oh Vabbè Oh C'ha fatto Guarda che non è rimasto il messaggio di cellar Non è rimasto così Non è rimasto così Guarda così E' farina Fatto, olio di girasole Ne abbiamo bisogno per friggere Quando si è riscaldato friggiamo gli anelli di cipolla No 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 A presto! Grazie per il bit bellum Non possiamo scrivere quello che dice Metti il libro per terra Ma chi è che è chiamato? Sto in una voce femminile Sto in una voce femminile Io sto in una voce femminile Grazie comunque Tosca Mascingana Allora ragazzi alle 9 facciamo rp Facciamo un po' di just chatting Adesso mi saluti un amico americano Devi stucare Devi stucare Va bene lo faccio io Ritorna delu mode Mannaggia Gesù Cristo Non ce la faccio più più A ci buttare su server che me crash ogni minuto Ma che ci facciamo? Mannaggia Gesù Cristo Non ce la faccio più me bevono po' che volere Perché non posso bere Bevande aggassate alcoliche Non ti preoccupate Sono un maestro goliare di cipuccia Spacca tutto cosa Mannaggia Maron Gesù Cristo Sono un goiore lrp Faccio tutto cosa Faccio il rapione a cia Tutto quando va a caffini in carcere Tutto i poliziotto Mannaggia Gesù Cristo Qui stiamo a ron Tutto quando va a presto lontaccio Tra te Non ti spaccio i cocaini di parche Nei capito? Nei fatti lo cazzo Nei ci spacca la faccia Nei non ti permetto Non ti permetto Si accuta la buccia La saponetta Ok L'ho credo Non ti permetto No Ah ci la tenne capate Però Oh Non è mai fatto Ma credo Oh Oh Ma che credo ti tengo una certità, non capisci che niente ma questo che è, questo è il dolce renne fine enorme, vero nizu, eh vero nizu, però cala e e alle vinci, io non vedo no ma si vede, guarda quella, uuu la cosa satanista dove state? buon giù E' il 2 Quanto è? Deve stare? 40 minuti Alexa, posta timer 40 minuti La puttana di mamma Ti ho fatto cagare sotto Non ti preoccupare, ah La sera dovevi andare a ballare Tecno? Ah Brava, si Lo puoi andare a ballare tecno Ahia Che morsi qua Noi andiamo a ballare il reggaeton Amore, stiamo sempre a stare in coglioni E ma sono i tristi Donamo ma sono Oddio, 12.000 di iso, aspetta un attimo Sono troppo assai Ok Alexa, spegni in segno, va Oh Un po' altri, guys Che è passato Hai visto? Hai visto? Hai visto? Oio, fai la clip Che c'è bello Guardi che hai spucato su o niente Guarda guarda qua Ma che è? Mi hai fatto fuggiare E' volato pure mo' E' volato no? No E' volato pure mo' No